Altro che mondiali, il tifo casalingo è agguerrito al cappetto dell'oratorio di Castel San Giovanni della super sfida tra la neonata squadra di calcetto integrato del gruppo sportivo San Filippo Neri e i veterani della Sofa. Poco importa se la vittoria va alla formazione ospite allenata da Francesco Bianchini. Qui non ci sono esclusi né sconfitti perché come sintetizza Sara in discussa bomber del San Filippo Neri non importa la diversità ma essere speciali dentro al cuore. Grazie!